la nostra quarta parte che inizia un po lì dove c'eravamo lasciati ieri quindi vi ricordate cosa avevamo detto ieri avevamo parlato di quel romanzo che era un po il seguito di cecità questo saggio che si intitola appunto come come titolo a saggio sulla lucidità ma che di fatto non è un saggio ma è un romanzo che prendeva in un certo qual senso ancora in giro la democrazia occidentali molto criticate da sarah magu e che c'è questo questa visione non tanto peregrino balzana di una stensione di massa di tutte le schede bianche che mettono in crisi diciamo il governo di questo di questa nazione nemmeno indicare indicata propriamente d'altro canto la narrativa di sarah magu è basata proprio sulla metafora sull'allegoria è una specie di risorsa stilistica che lui ha sempre sfruttato e che gli ha dato la possibilità di trasformare a volte anche di elevare quella denuncia sociale e politica che lui conduceva con simboli universali ricordiamo quindi i temi appunto della della cecità abbiamo visto la caverna che riaffiorava il mito platonico le la confusione l'enciclopedia dei nomi noi in quella in quel bellissimo nel libro di tutti i nomi e infine la duplicità che è dentro ognuno di noi nell'uomo duplicato di cui si parlava ieri quindi tutte tutte favole belle favole surreali che con l'ironia di cui lui è capace sottolinea un po la visione che lui ha del mondo del mondo calato profondamente ahimè anche in questo nostro 2021 nella violenza nell'ingiustizia nella sopraffazione il mio lavoro è sulla possibilità dell'impossibile chiedo al lettore di accettare un patto anche se l'idea è assurda l'importante è immaginarne i possibili sviluppi l'idea è il punto di partenza ma lo sviluppo è sempre razionale e logico ci dice in queste frasi sarà magu proprio come lui sviluppa i suoi temi per condurre diciamo per portare avanti le sue opere e nel 2005 concede lui che concedeva malvolentieri interviste concede la sua prima intervista a un giornale inglese lui ha 83 anni e chiaramente in questa intervista confessa ancora una volta che questo suo ormai diventato famoso radicalismo comunista era rimasto immutato nel tempo abbiamo detto che si era un po dissociato disamorato di fidel castro però diceva che alla fin fine l'idea comunista era l'unica idea che la vedeva vicino al suo modo di intendere e ci voleva però un po uno sforzo credere che lui a quell'età 83 anni fosse ancora così straordinariamente produttivo tanto da sfornare ogni anno nuovi romanzi lui che aveva una presenza fisica ormai molto scarna e il suo viso era si era fatto rugoso ma i suoi occhi e le sue mani mentre parlava erano erano ancora vivacissimi quindi nel 2005 in quell'intervista annuncia un ennesimo suo romanzo romanzo anche questo fantastico come dicevo ieri parlare del capolavoro di saramago diventa sempre difficile perché ogni nuovo romanzo sembra sempre meglio di quello che hai letto fino a quel momento e questo romanzo si intitola le intermittenze della morte e continua in un certo qual senso la sua critica anche a volte feroce contro le grandi istituzioni politiche e religiose e in questa trama arriva al massimo dei suoi paradosso tanti paradossi tanto da coinvolgere niente poco niente poco di meno che la presenza della morte nel mondo quella morte che improvvisamente sospende la sua attività il romanzo infatti è in due in due parti nella prima parte vediamo gli abitanti di un paese del tutto anonimo che improvvisamente smettono di morire anche i malati prossimi alla fine non arrivano mai a uno stato così grave da tirare le cuoia e questa situazione talmente assurda mette in moto una catena grottesca di reazioni che vanno da ingorgo di malati nelle sale degli ospedali e degli ospizi la minaccia di esaurimento delle casse delle pensioni perché nessuno muore più e quindi le pensioni vanno avanti e per l'eternità altro a preoccupazioni per tante categorie di lavoro e di professioni come non so le agenzie di pompe funebri fino arrivare addirittura alle proteste violente delle gerarchie religiose in particolare la chiesa la chiesa cattolica che nell'immortalità del corpo trova quasi una contraddizione a tutto quello che lei basa sull'aldilà senza morte non c'è resurrezione obietta su eminenza il cardinale davanti al primo ministro e senza resurrezione non c'è la chiesa quindi il malessere è talmente forte che il prelato dopo dia dopo che ha detto queste parole a un attacco di appendicite viene ricoverato d'urgenza all'ospedale ma sa che gli è impossibile morire e quindi implora con le preghiere il signore che avvenga che almeno faccia morire lui in modo tale di poter riaffermare questo ordine naturale delle cose che è andato in franto e intanto nel paese vicino invece la morte la morte continua imperterrite imperterrite imperterrita il suo triste lavoro provocando quindi alla frontiera tra i due paesi un traffico di malati cadaveri che viene organizzato dalla mafia locale la seconda parte invece del romanzo è solamente un dialogo un fitto dialogo tra i due protagonisti la morte la morte che è tornata alla ribalta con una serie di lettere lettere color viola che invia agli uomini per annunciarli la data e l'ora esatta della propria morte è un cinquantenne che è un violencellista che vive da solo in casa con il suo cane e che quando riceva quelle riceve quelle lettere viola le rispedisce al mittente rifiutando diciamo qualsiasi messaggio sulla sua prossima fine e questa breve parentesi di questa ingannevole l'immortalità più che essere l'ennesima provocazione sarcastica verso la certezza delle fede della fede e della metafisica è un modo per saramagu per farci delle domande inquietanti che indagano ancora una volta sul mistero che il nostro essere uomini il nostro destino la nostra decadenza la vecchiaia e la morte e questa situazione impossibile diventa per saramagu la metafora di qualcosa di quasi magico gli uomini e le donne di questo mondo vengono messi in discussione la loro esistenza è messa alla prova da un avvenimento talmente assurdo che diventa quasi inaccettabile e lui spiega molto bene questo concetto quando dice bisogna accettare che l'impossibile sia possibile ed estrarre da quella premessa un po' azzardata tutte le conseguenze che l'immaginazione può portare anche a discapito della logica la chiesa ha cercato di trovare una spiegazione per la creazione del mondo e da allora hanno difeso quell'idea anche con la violenza ma non possiamo accettare la verità che viene da altre persone dobbiamo sempre essere in grado noi di mettere in discussione tutte le verità e questo diciamo è un po' la cifra con cui saramagu cerca di affrontare qualsiasi evento ma sentite un po' che cos'è questo libro mentre i filosofi divisi come sempre impessimisti e ottimisti alcuni accigliati altri ridanciani si accingevano a ricominciare per la millesima volta la trita disputa del bicchiere che non si sa se è mezzo pieno o mezzo vuoto la quale disputa trasferita alla questione che li aveva chiamati lì si sarebbe ridotta nel finale con ogni probabilità a un mero inventario dei vantaggi o degli svantaggi dell'essere morto o di vivere per sempre si presentarono i delegati delle religioni formando un fronte comune unito con cui aspiravano a fissare il dibattito nell'unico terreno dialettico che gli interessava cioè l'accettazione esplicita che la morte era assolutamente fondamentale per la realizzazione del regno di dio e che pertanto qualsiasi discussione su un futuro senza morte sarebbe stata non solo blasfema ma anche assurda in quanto avrebbe dovuto presupporre inevitabilmente un dio assente per non dire semplicemente sparito le religioni tutte le religioni per quanto le si rigiri non hanno altra giustificazione di esistere all'infuori della morte ne hanno bisogno come il pane per i denti i delegati delle religioni non si scomodarono a protestare al contrario uno di essi reputato appartenente al settore cattolico disse ha ragione signor filosofo è proprio questo il motivo per cui esistiamo noi perché le persone conducano tutta la vita con la paura appesa al collo e giunta l'ora accolgano la morte come una liberazione il paradiso o paradiso o inferno oppure niente quello che c'è dopo la morte ci importa assai meno di quanto generalmente si creda la religione signor filosofo è una faccenda terrena non ha niente a che vedere con il cielo non è questo che ci avete abituato a dire qualcosa dovevamo pur dirla per rendere più attraente la merce ciò vuol dire che in realtà non credete nella vita eterna ma noi lo sapete facciamo finta per un minuto nessuno parlò il più vecchio dei pessimisti lasciò che un vago e soavo sorriso gli si diffondesse sul viso e assunse l'aria di chi ha appena visto coronato di successo un difficile esperimento di laboratorio è forse appunto è un gioco dell'assurdo che sarà magu ha intavolato con i suoi lettori riflette in questo caso cosa significhi la morte nella nostra società cercando di dare un volto una voce un persino un pensiero perfino alla morte stessa che è la negazione di tutto questo l'essenza della morte quindi sarebbe un sogno un evento che non porterebbe nulla di buono l'uomo non è pronto per un simile cambiamento riuscirebbe anche in questa nuova situazione di acquisita immortalità a dare prova di bassezze tipiche della natura umana perché in fondo resta pur sempre un uomo a proposito non esiteremo di ricordare che la morte la morte da sola da sola senza alcun aiuto esterno ha sempre ucciso molto meno dell'uomo perché in un mondo in cui ogni giorno pandemie catastrofi naturali storiche politiche portano via con sé una percentuale della massa umana del nostro pianeta sarà magu ci dimostra ancora una volta che nonostante tutto la cosa migliore è che ci sia la morte che ci vogliamo fare che ci piaccia così o meno questa effettivamente è la nostra vita lui era abituato ad essere circondato dalle polemiche e queste polemiche alla fin fine non lo toccavano più di tanto l'abbiamo visto anche i giorni scorsi nel 2006 divennero famose le sue feroci critiche alla politica dello stato di israele e dei suoi rapporti con i palestinesi niente di più drammaticamente attuale in questi nostri giorni che chiaramente questa sua posizione li attirò le ire di mezzo mondo occidentale anche se faceva notare quelle critiche che lui faceva non erano rivolte agli ebrei ma alla politica dello stato di israele che per lui era qualcosa di estremamente diverso sosteneva che israele non poteva affermare di rappresentare legittimamente il giudaismo a livello mondiale e che stava usando le accuse di antisemitismo per simula a sminuire qualsiasi critica anche le più giustificabili contro il suo operato ma l'anno dopo nel 2007 divenne ancora centro di moltissime critiche per il suo atteggiamento nei confronti delle reazioni che alcuni paesi musulmani avevano avuto quando furono pubblicate su quel giornale danese le famose vignette satiriche anti islamiche molti notarono quasi una contraddizione in questa sua presa di posizione con questo diverso atteggiamento nei confronti di una siti di una satira quasi analoga rivolta a una religione diversa dalla cristiana e della protestante parlava di sua moglie come della sua casa la definiva la cosa più importante della mia vita forse più importante di tutto il mio lavoro vedo la nostra relazione come una storia d'amore che non ha bisogno di essere trasformata in nessun romanzo e in quel 2007 proprio i due celebrarono un secondo matrimonio civile a castrillo la città natale della moglie in andalusia perché chiaramente loro non si erano curati di registrare in spagna il loro matrimonio avvenuto nel 1988 a lisbona e quindi per la legge spagnola alla fin fine non erano ancora sposati una situazione stravagante che poteva essere oggetto di uno dei suoi tanti romanzi ma a proposito di romanzi nel 2007 compare anche questo libricino le piccole memorie dove lui ricostruisce un po la sua infanzia dove riaffiorano i famosi nonni analfabeti descrive le condizioni più che modeste della sua via della sua famiglia accenna alla sottomissione quasi quasi senza possibilità di reazione del dello slogan fascista di salazar dio patria e famiglia che regnava in ogni casa portoghese di quei tempi e questo flusso di ricordi a volte anche discontinuo sembra che lasci apposta dei vuoti dei tempi che servono magari per rendere più movimentato il flusso del ricordare ma alla fine del 2007 sta scrivendo un nuovo romanzo si intitola il viaggio dell'elefante dove rifacendosi di nuovo a un fatto storico racconta di questo elefante indiano dono del re giovanni terzo all'arciduca massimiliano secondo d'austria che è in viaggio in viaggio verso la sua destinazione finale badate questa è una storia una vera cioè storicamente successo chiaramente lui ne fa un libro molto interessante interessante in questo suo libro lui diceva è un libro di pura invenzione al 99 per cento ero affascinato dal viaggio di questo elefante che mi sembra quasi la metafora della vita sappiamo tutti di dover morire ma non sappiamo in quali circostanze ne aveva scritto una quarantina di pagine quando però venne ricoverato d'urgenza in ospedale per dei problemi respiratori da cui si riprese solo a fatica dopo alcuni mesi e lui ironizzava su questa circostanza dicevano esitavano addirittura ad accettarmi perché ero in condizioni piuttosto gravi non volevano essere l'ospedale in cui moriva josé saramago dopo vari mesi in ospedale saramago era tornato a casa nel febbraio del 2008 era ormai molto fragile aveva 86 anni compiuti ma aveva ricominciato un frenetico programma prima partecipa all'anteprima lisbona dell'adattamento cinematografico di cecità blindness che vi accennavo prima poi viaggia in brasile dove ha da aveva da sempre un grande seguito e apre una mostra san paolo sulla sua vita e il suo lavoro e poi inaugura inaugura la nuova sede della fondazione josé saramago nata a lisbona con l'obiettivo di portare una nuova dinamica nella vita culturale del portogallo il direttore della fondazione è ancora oggi la moglie di saramago pilar del rio intanto proprio nel 2008 il suo ultimo romanzo il viaggio dell'elefante riempiva le vetrine delle librerie quel che trovo sorprendente e strano è che nel libro ci sia molto umorismo che addirittura alcune pagine facciano ridere la gente non si può immaginare come mi sentivo allora mentre lo scrivevo la trama del libro come vi ho detto è ispirata a una storia realmente accaduta nel sedicesimo secolo un elefante di nome salomone attraversò a piedi mezza europa da lisbona alla spagna e poi da genova fino a vienna perché era il regalo di nozze di joao terzo re del portogallo all'arciduca austriaco massimiliano secondo il viaggio dell'elefante è a modo suo quindi un romanzo storico in cui saramago riversa un po di ironia su ogni cosa come uso fare è una grande avventura però in cui si percorrono tutte le strade del continente europeo del sedicesimo secolo con cavalli buoi contadini eserciti bislacchi prepotenti figure di sangue blu sacerdoti che a seconda delle circostanze esorcizzano l'elefante oppure supplicano che faccia un miracolo e in un'età che passerà la storia come quella della controriforma saramago immette questo elefante che è un po come in una in un negozio di porcellane dove al suo passaggio crea sconvolgimento ma diventa una metafora della vita un allegoria del potere fatto sta che l'indomani mattina si presentò nel bivacco ancora mezzo addormentato un emissario della basilica di sant'antonio sebbene non avesse usato esattamente questi termini disse di venire su ordine di un superiore della squadra ecclesiastica del tempio per parlare con il custode dell'elefante fritz aprì la bocca per domandare che cosa volesse da lui quel prete ma la ripiuse subito non sia mai che dovesse crearsi una confusione linguistica linguistica che non si sa dove li avrebbe portati si alzò dunque e si diresse verso il sacerdote che aspettava a prudente distanza vostra paternità vuole parlare con me domandò infatti figliolo mio rispose il visitatore mettendo in queste tre parole tutte le riserve di unzione di cui poteva disporre allora dica pure padre tu sei cristiano fu la domanda sono stato battezzato ma dal colore della mia pelle dai miei lineamenti vostra paternità avrà già visto che non sono di qua sì suppongo che tu sia indiano ma ciò ciò non è l'impedimento che sia un buon cristiano non sarò io a dirlo già che ho capito che elogio in bocca propria è vituperio sono qui per farti una richiesta ma prima voglio che mi dica se il tuo elefante è di quelli ammaestrati ammaestrato quello che si dice ammaestrato nel senso di possedere un certo numero di abilità da circo non lo è ma di solito si comporta con la dignità di un elefante che si rispette sarai capace di farlo inginocchiare forse anche con una gamba sola sappia vostra paternità che non ho mai provato ma ho osservato che solimano si inginocchia molto proprio quando vuole sdraiarsi quello però di cui non posso avere la certezza e che lo faccia se glielo ordino io puoi provare sappia vostra paternità che l'occasione non è la migliore la mattina solimano è quasi sempre mal disposto posso tornare più tardi se lo ritieni conveniente quello che mi porta qui non è cosa impellente sebbene converrebbe assai agli interessi della basilica che avvenisse oggi prima che su altezza l'arciduca d'Austria partisse per il nord avvenisse oggi che cosa se non sono troppo ardito a domandarlo il miracolo disse il prete congiungendo le mani ma che miracolo domandò il cornac mentre sentiva la testa girargli se l'elefante andasse a inginocchiarsi alla porta della basilica non ti sembra che sarebbe un miracolo uno dei grandi miracoli della nostra epoca domandò il sacerdote congiungendo di nuovo le mani ma io non so niente di miracoli nella mia terra laggiù dove sono nato non ce n'è sin da quando il mondo fu creato immagino che tutta la creazione sarà stata un miracolo continuo ma poi sono finiti ora sì vedo che in definitiva non sei così un buon cristiano e che si aspetta vostra paternità da me che tu conduca l'elefante alla porta della basilica e lo faccia inginocchiare ma non so se ne sarò capace provaci immagini vostra paternità che io conduca l'elefante fin là e lui si rifiuti di inginocchiarsi anche se non me ne intendo molto di questi argomenti suppongo che peggio di un miracolo che non c'è sia ritrovarsi con un miracolo fallito non sarà mai fallito se ne resteranno dei testimoni e chi saranno questi testimoni in primo luogo tutta la comunità religiosa della basilica e quanti cristiani disponibili riusciremo a riunire all'entrata del tempio in secondo luogo la voce pubblica che come sappiamo è capace di giurare ciò che non ha visto di affermare ciò che non sa incluso credere in miracoli che non sono mai esistiti sono questi i più gustosi si fatica a prepararli ma lo sforzo che richiedono in genere è compensato e inoltre solleviamo da maggiori responsabilità i nostri santi e quelle di dio dio non lo importuniamo mai perché faccia un miracolo bisogna aspettare la gerarchia al massimo ricordiamo la vergine che pure è dotata di talenti taumaturgici ma se ti parlo con tanta franchezza rispose il sacerdote è per farti capire che abbiamo davvero necessità di questo miracolo questo o qualche altro perché perché l'utero nonostante sia morto sta causando grande pregiudizio alla nostra santa religione tutto quanto possa aiutarci a ridurre gli effetti della predicazione protestante sarà benvenuto rammenta che soltanto poco più di 30 anni fa sono state affisse le sue nefande tesi alle porte della chiesa del castello di wittenberg e già il protestantesimo sta dilagando come un'inondazione in tutta l'europa io non so niente di quelle tesi o quel che sono né c'è bisogno che tu lo sappia basta che abbia fede fede in dio o nel mio elefante domandò il corna in entrambi rispose il prete e quanto ci guadagnerò con questo alla chiesa non si chiede alla chiesa si dà e a che ora desidera vostra paternità che porti l'animale domandò ti voglio la mezzogiorno in punto non un minuto dopo e io spero che il tempo mi basti per far entrare in testa solimano che dovrà inginocchiarsi ai piedi delle vostre paternità no non ai nostri che noi non ne siamo degni ma del nostro sant'antonio e con queste pie parole il prete si ritirò per riferire i superiori sui risultati dell'evangelico approccio ma ci sono speranze gli domandarono le migliori anche se siamo nelle mani dell'elefante un elefante non è un cavallo non ha mani è un modo di dire come a significare per esempio che siamo nelle mani di dio con la grande differenza che siamo effettivamente nelle mani di dio lodato sia il suo nome e sempre sia lodato lo stile di scrittura di sarah magu è sempre stato un fondo unico nel suo genere inserisce ogni nome proprio senza le maiuscole scrive frasi molto lunghe non mette evidenti segni per i dialoghi se non qualche maiuscola ogni tanto dunque è un'esperienza di lettura geniale che appartiene praticamente esclusivamente a lui ma nonostante questo nel settembre del 2008 sul consiglio della moglie inaugurò addirittura un blog un caderno un quaderno sul sito web della fondazione e inaugura il suo blog con una vera e propria lettera d'amore a lisbona una volta scrivevo per i giornali ma ora scrivo ogni giorno e il blog è visitato da un milione di persone lo trovo stupefacendo e è più la cosa più stupefacente è che lo sto facendo tutto gratis alla sua veneranda età stupisce quindi tutti annunciando l'intenzione di aprire questa finestra sul popolo di internet con questo sito web della fondazione che porta poi il suo nome ispirandosi quindi un po ai quaderni di lanzarote questa sua opera autobiografica ambientata alle canarie affronta gli argomenti più disparati che vanno dalla crisi finanziaria ai consigli per le coppie che stanno divorziando e su come debbano dividersi i propri libri insomma una specie di diario pubblico e le sue preoccupazioni spaziano tra la politica le passioni che potrebbero sembrare appartenere quasi a un'epoca passato e lui è un irriducibile comunista impaziente di dittatori sovversivo di ogni ortodossia il rispettoso di qualsiasi corporazione internazionale lui contadino nato in un paese marginale di contadini si intensifica sempre di più con i deboli lui radicale che ha vissuto in un'epoca in cui anche i liberali venivano definiti di sinistra e i suoi commenti politici umani letterari creano grande scandalo soprattutto creano scandalo in quegli anni nel 2008 in italia perché fa più di un articolo in totale contrasto con berlusconi che ai tempi era primo ministro e in questa per questa sua presa di posizione incomincia avere dei guai addirittura lui giunge a definire berlusconi il nuovo catilina fino a quando usque tandem berlusconi abuserai della nostra pazienza è riuscito nell'impresa di dividere il popolo italiano in due parti quelli cui piacerebbe essere come lui e quelli che già lo sono da qui quindi la decisione del suo editore storico e in audi fino allora il suo unico editore in italia di non pubblicare mai più saramagu e nessuno degli articoli pubblicati in questi suoi mesi in questi mesi di attività di blog tutti questi articoli verranno riuniti in semplicemente in quaderno il quaderno e in questa occasione lui non si scompose come la suo solito e cambiò editore trovò in feltrinelli il nuovo editore italiano e dichiarò che tutti hanno il diritto di indignarsi per quello che accade nelle sfere della politica della religione della società se a loro sembra che ci sia del male devono indignarsi si dichiarò invece entusiasta nel 2009 dell'elezione di barack obama e è un bel momento dirà democrazia in azione un nuovo candidato un candidato nero una specie di rivoluzione per saramagu del resto l'ateismo come l'antifascismo erano un pilastro incrollabile della sua filosofia di vita non si sarebbe mai staccato né da uno né dall'altro pronto sempre a provocare e a dirridere qualsiasi fede così nel 2009 esce il suo romanzo Caino che è una ulteriore rivisitazione del tutto ironica del vecchio testamento qui ovviamente solleva l'ennesimo vespaio polemizza con la chiesa cattolica portoghese un'altra volta critica la bibbia perché descrive secondo lui un dio vendicato vendicativo rancoroso indegno di fiducia e con Caino torna ad occuparsi di religione con il suo modo ironico allegorico Caino ci viene descritto come un essere umano né migliore né peggiore di tanti altri al contrario il dio invece che viene fuori dal romanzo è un dio malvagio ingiusto invidioso che non sa veramente quello che vuole soprattutto non ama gli esseri umani è un dio che rifiuta apparentemente solo per capriccio o indifferenza rifiuta l'offerto di Caino provocando così l'assassinio di Abele e i vescovi portoghesi tramite il portavoce della conferenza episcopale accusarono Sara Magu di offendere milioni di cattolici in tutto il mondo e allo stesso tempo durante una conferenza a Lisbona lui si scagliò ancora verso contro i vertici della chiesa accusandoli di suscitare odi alimentare rancori incomprensioni e resistenze nella bibbia si raccontano crudeltà incesti violenze di ogni genere carneficine e tutto ciò è incontestabile ma è bastato che lo dicessi io per suscitare un enorme politica nel suo solito stile aggressivo tagliente poco ortodosso non si limita a darci una rilettura dissacrante ironica degli episodi più conosciuti dell'antico testamento ma ci mostra anche il volto vendicativo del dio degli ebrei e mette in discussione i principi del libero albritrio dell'infallibilità divina descrivendo un dio impegnato soltanto a vincere una partita contro se stesso senza preoccuparsi del dolore che crea padre chiamò il ragazzo e poi un'altra voce da adulto di una certa età domandò che vuoi isacco abbiamo portato fin qui il fuoco e la linea ma dov'è la vittima per il sacrificio il padre rispose provvederà il signore troverà il signore la vittima per il sacrificio e continuarono a risalire il pendio or bene intanto che loro salgono lemme lemme conviene sapere come è iniziata questa storia per comprovare una volta ancora come il signore non sia gente di cui poi ci si possa fidare circa tre giorni prima non più tardi il signore aveva detto ad abramo padre del ragazzino che sta trasportando sulle spalle il fascio di legna porta con te il tuo unico figlio isacco al quale vuoi così tanto bene ricati nella regione del monte moria e offri e offrimelo in sacrificio su uno dei monti che ti indicherò il lettore ha letto bene il signore ha ordinato ad abramo di sacrificare il proprio figlio e il tutto con la massima semplicità come chi chiede un bicchiere d'acqua quando ha sete il che significa che era una sua abitudine ben radicata la cosa logica la cosa naturale la cosa semplicemente umana sarebbe stata che abramo avesse mandato il signore a spigolare ma non è andata così in domani mattina lo snaturato padre si alzò presto per bardare l'asino preparò la linea per il fuoco del sacrificio e si incamminò verso il luogo che il signore gli aveva indicato portando con sé due servitori il figlio isacco il terzo giorno di viaggio abramo avvistò in lontananza il famoso luogo disse allora i servitori voi restate qui con l'asino che io vado laggiù con il bambino per adorare insieme il signore e poi torneremo da voi vale a dire che oltre che figlio di puttana quanto il signore abramo era decisamente un bugiardo pronto a ingannare chiunque con la sua lingua biforcuta che in questo caso secondo il dizionario privato del narratore di questa storia significa traditrice perfida fraudolente sleale e altre meraviglie simili giunto dunque nel luogo di cui il signore gli aveva parlato abramo costruì un altare e vide posi sopra la legna poi legò il figlio lo mise sull'altare impugnò il coltello per sacrificare il povero ragazzo e già si accingeva a tagliargli la gola quando sentì che qualcuno gli afferrava il braccio mentre una voce urlava che vuoi fare vecchio malvagio uccidere tuo figlio bruciarlo è di nuovo la stessa storia si comincia con un agnello e si finisce per assassinare colui che più si dovrebbe amare è il signore che l'ha ordinato è il signore che l'ha ordinato si dibatteva abramo taci o se qui c'è qualcuno che uccide quello sono io slega subito il ragazzo inginocchiati chiedigli perdono ma chi sei tu sono caino sono l'angelo che ha salvato la vita isacco no non era vero caino non è per niente un angelo un angelo è questo che è appena atterrato con un grande rumore d'ali e ha cominciato a declamare come un attore che avesse finalmente sentito il tempo della sua battuta non alzare la mano contro il bambino non fagli del male già che oramai ho visto che sei obbediente al signore disposto per amor suo a non risparmiare neppure il tuo unico figlio arrivi tardi disse caino se isacco non è morto è grazie a me che l'ho impedito tardi disse caino meglio tardi che mai rispose l'angelo con prosopopea come se avesse appena enunciato una verità elementare ti sbagli mai non è il contrario di tardi il contrario di tardi è troppo tardi gli rispose caino l'angelo borbottò ecco ciò che ha mandato a dire il signore giacché sei stato capace di fare questo e non hai risparmiato neppure tuo figlio giuro sul mio buon nome che ti benedirò ti darò una discendenza tanto numerosa quanto le stelle del cielo o le sabbie della spiaggia e essi si impadroniranno delle città dei loro nemici e inoltre attraverso i tuoi discendenti si sentiranno benedetti tutti i popoli del mondo perché tu hai obbedito al mio ordine parola del signore queste per chi non lo sabbia ho fingo di ignorarlo sono le contabilità doppie del signore disse caino se una ci ha guadagnato l'altra non ci ha perso a parte ciò non capisco come potranno mai essere benedetti tutti i popoli del mondo solo perché abbramo ha obbedito un ordine stupido questa noi la chiamiamo obbedienza dovuta disse l'angelo poi zoppicando sull'ala destra con l'amaro in bocca per il fallimento della missione la celestiale creatura se n'è andata anche abbramo il suo figlio sono ormai in cammino verso il luogo dove li aspettano i servitori e adesso mentre caino sistema le bisacce sulla groppa del giumento immaginiamo un dialogo tra la guzzino frustrato e la vittima salvata in extremis domandò isacco padre ma che diavolo di male ti ho fatto perché tu abbia voluto uccidermi proprio io che sono poi il tuo unico figlio male non me ne hai fatto isacco e allora perché volevi tagliarmi la gora come se fossi un agnello domandò il ragazzo se non fosse hai apparso quell'uomo a trattenare a trattenere il tuo braccio che il signore lo copra di benedizioni ora staresti riportando a casa un cadavere all'idea l'idea isacco è stata del signore che voleva fare la prova ma la prova di che della mia fede della mia obbedienza ma che razza di signore è questo che ordina un padre di uccidere il proprio figlio è il signore che abbiamo è il signore dei nostri antenati è il signore che c'era che c'era già quando siamo nati e se quel signore avesse un figlio farebbe uccidere anche lui domandò isacco a questa domanda abramo disse lo dirà il futuro nonostante il successo del suo blog saramago dopo un anno di questa esperienza decise di chiuderlo annunciando l'addio a tutti i suoi followers e aggiunse che non avrebbe più fatto nient'altro di simile su internet per dedicarsi anima e corpo a scrivere soltanto i romanzi e confessava di avere già in testa la trama di uno nuovo è possibile chissà che magari io scriva anche un altro libro una mia antica preoccupazione perché non c'è mai stato uno sciopero in una fabbrica di armi ha fatto strada a un'idea complementare che proprio per questo consentirà di trattare il tema a livello romanzesco non me lo aspettavo ma è successo mentre ero qui seduto a girarci intorno o mentre lei mi girava intorno il libro se arriverà ad essere scritto si intitolerà bellona che è il nome della dia romana della guerra uscirà al pubblico l'anno prossimo se la vita non mi viene a mancare anche se saramago aveva in più occasione confessato che dopo quel lungo ricovero in ospedale durato cinque settimane sono esausto ho quasi 87 anni e il mio corpo ahimè non è più lo stesso anzi è lo stesso ma è gravemente malato dicono che sono morto e risuscitato ma non ci credo molto diciamo che la morte avviene in due fasi una in cui si è morti e una in cui si è proprio morti io sono passato per la prima fase ecco ho vissuto una situazione di sospensione delle funzioni vitali durata minuti o ore non ricordo ma sono stato sulla soglia per un bel po le sue condizioni di salute infatti erano sempre più precarie a causa ormai di una leucemia cronica e il 18 giugno del 2010 alle 13 nella sua casa di lanzarote josé saramago moriva all'età di 87 anni e al capezzale c'era la moglie pilal del rio 24 anni senza mai lasciarsi per un solo giorno è stato un dono della vita abbiamo condiviso tutto fino all'ultimo istante sono orgogliosa di essere stata la compagna di josé un uomo che fino alla fine anche se vecchio e malato non si è mai rassegnato ha continuato a scrivere perché questa era lo scopo di tutta la sua esistenza le ceneri del premio nobel vennero sepolte sotto un ulivo nel giardino di fronte alla fondazione saramago a lisbona proprio la moglie dopo qualche tempo accendendo il vecchio computer abbandonato in salotto cliccando su una cartella aprì un documento contenente il libro che da vent'anni era rimasto lì abbandonato e comparve così quasi per caso il sesto e l'ultimo dei quaderni di lanzarote che avrà il titolo di diario dell'anno del nobel l'ultimo quaderno di lanzarote un diario in cui saramago delinea i paesaggi politici di tempi ormai passati ma che in modo quasi profetico giudica la società con tutti i suoi peccati e i suoi peccatori nel 2011 compare poi l'ultimo romanzo pubblicato ovviamente postumo un romanzo scritto nel 1953 dal titolo lucernario il manoscritto era stato spedito da un trentunenne saramago alle prime armi con la raccomandazione di un amico giornalista era stato spedito a una casa editrice che non non aveva mandato neppure una lettera di rifiuto solo un indifferente silenzio e la cosa aveva ferito moltissimo josé tanto che lucernario era rimasto abbandonato in un cassetto fin tanto che nel 1999 negli archivi di una casa editrice portoghese durante un trasloco era stato ritrovato il manoscritto e saramago si era rifiutato ostinatamente di farlo pubblicare malgrado ovviamente le insistenze di quel piccolo editore che si trovava in casa così senza aspettarselo niente poco di meno che un romanzo inedito del premio nobel per la letteratura è un saramago diverso quello degli esordi abbastanza lontano dagli altri suoi romanzi della maturità storie di famiglie che si intrecciano in un condominio di lisbona durante il periodo del salazarismo il periodo più ottuso ed oppressivo scritto sotto la minaccia della censura dove però lui non risparmia la sua critica al regime anche se non è mai esplicita e il suo realismo diventa una denuncia che strizza sovente l'occhio alla commedia umana Gaetano Cugna in virtù della professione che esercitava aveva una vita che assimiliava un po' a quella dei pipistrelli lavorava mentre gli altri dormivano e quando lui riposava con le finestre e gli occhi chiusi gli altri andavano a lavorare alla luce del sole questo fatto gli dava la misura della sua importanza era fermamente convinto di valere più della gente comune e per vari motivi non ultimo questo della vita notturna attaccato alla linotype mentre la città dormiva quando ancora buio usciva dal giornale e vedeva le strade deserte che brillavano per l'umidità che le ore notturne trasportavano dal fiume si sentiva felice gli piaceva prima di andare a casa girovagare per le strade silenziose dove passavano sagome femminili sia pure stanco si fermava a parlare se poi gli andava qualcos'altro si lasciava trasportare ma in mancanza del resto parlava parlare gli bastava a Gaetano piacevano le donne tutte le donne la semplice vista di una gonna ondeggiante lo turbava sentiva un'attrazione irresistibile per le donne dai facili costumi il vizio la dissolutezza l'amore a pagamento lo affascinavano conosceva quasi tutte le case di meretricio della città sapeva memoria le tariffe poteva ben sciorinare nel suo intimo se ne vantava senza bisogno di inventare i nomi di varie decine di donne con cui era stato fra tutte le donne una sola ne disdegnava la sua giustina era per lui un essere assessuato senza bisogni né desideri quando a letto casualmente lei lo sfiorava si scansava con ripugnanza infastidito dalla sua magrezza dalle sue ossa puntute dalla pelle eccessivamente secca quasi in carta pecoperita questa non è una donna è una mummia pensava giustina gli leggeva il disprezzo negli occhi e taceva dentro di lei il fuoco del desiderio si era ormai spento ricambiava il disprezzo del marito con un disprezzo ancora maggiore sapeva di essere tradita e non gliene importava ma non tollerava che lui sbandierasse dentro casa le sue conquiste non perché fosse gelosa ma perché consapevole di quanto fosse caduta in basso legandosi a un uomo così non voleva scendere al suo livello e quando Gaetano trascinato dal temperamento esuberante e collerico la trattava male con parole e paragoni lo azzittiva con una semplice frase quella frase per il carattere don giovannesco di Gaetano era un'umiliazione perché gli ricordava un fallimento sempre vivo nella carne e nello spirito un mucchio di volte sentendola aveva provato la tentazione di aggredire la moglie ma ma giustina aveva in quei momenti un fuoco selvaggio negli occhi una smorfia di disprezzo sulle labbra e lui si sgonfiava perciò tra i due il silenzio era la regola e la parola l'eccezione perciò null'altro che sentimenti di gelo sguardi distanti colmavano il vuoto delle ore passate insieme e l'odore di stantio che invadeva la casa quell'atmosfera da sotterraneo era come l'odore delle tombe abbandonate ma c'era ancora un ultimo un ultimissimo romanzo quel romanzo che sarà mago stava scrivendo ed era rimasto incompiuto alabarde alabarde partendo infatti dalla constatazione che non si era mai avuta notizia di sciopero nelle industrie belliche e da un episodio della guerra di spagna quando una bomba non esplose perché sabotata dagli operai che l'avevano fabbricata sarà magu aveva concepito la sua ultima trama sempre originale e appassionante ma di questa opera ne aveva scritti solo tre capitoli capitoli superstiti dove alleggia nell'aria un mistero sconcertante e terribile e crea un'atmosfera di curiosità e di tensione lui voleva voleva lasciare una riflessione etica sui temi della guerra della politica della corruzione ma ahimè la morte è arrivata prima che lui potesse terminare la sua opera quel che resta è veramente poco eppure è stato pubblicato ed è sufficiente a non lasciarci ancora una volta indifferente fu pubblicato nel 2014 e il volume nel testo anche italiano come potete anche leggere conteneva una postilla scritta da roberto saviano il nostro giornalista scrittore napoletano e le parole che saviano mette in quella postilla mi sono sembrate forse le più adatte per dare conclusione alla nostra chiacchierata di tutte le cose che poteva fare josé sarà magu morire è quella più inaspettata se conoscevi veramente josé proprio non lo mettevi in conto sì certo muoiono anche gli scrittori ma ma lui non ti dava proprio alcuna possibilità di pensare a un corpo a un corpo stanco di vita stanco di respirare di mangiare di amare si era consumato negli ultimi anni tra la carne le ossa sembrava esserci sempre meno spessore la sua pelle era sottile mantello che ricopriva il teschio ma ma lui mi diceva potessi decidere io io non me ne andrei mai ok che diria Grazie a tutti